allora non posso farvi una domanda un secondo mentre magari aspettiamo che esca e poi ci buttiamo sulla youtube lì avete luca e colpo volevo chiedervi se mi confermate sta roba di zagnolo o è una cazzata a livello di notizie guarda quasi sta dicendo tutto il contrario la faccio vedere però è uno skin che mi hanno mandato su telegram quindi non so la veridicità c'è scritto così zagnolo dice sia la juve repubblica ma la domanda qual era però no se è vero se c'è qualcosa che si dice su zagnolo no ha risposto sia che domanda intendo a ok ok e invece su come si chiama su sulla juve su bravo vic sapete qualcosa voi l'unica con l'unica notizia che c'è manna che sta lavorando a milano per le eventuali cessioni non si sa quali è abbastanza blindata la situazione ma ieri per esempio successa una roba molto folcloristica cioè nel pomeriggio c'è stato detto che quadrado aveva un offerto che avrebbe un'offerta che avrebbe insomma valutato durante le vacanze di sera tutti dicevano già che quadrado non avrebbe rinnovato con la juve che la juventus non avrebbe voluto rinnovare lo stesso quadrato quindi è follia lo stato pure in questo momento il marecato della juventus è un'offerta non c'è ancora arrivato nulla da quel punto di quanto vale secondo i napoletani braovic a oggi ma giova che potete ma comunque forte ma come la ride giovanni quando dice forse 9 50 60 milioni oggi sono vedi a oggi a 45 50 milioni e quanto vorrebbe la juve sono messo i 70 già la manda è proprio chi prende secondo me c'è anche un discorso a fare anche guardando dell'elite l'anno scorso cioè io per dire ho sempre pensato meno di 70 80 l'intorno dell'elite non lo cedo poi è andato via meno per una cifra che non garantiva minus valenza anzi garantiva una plus valenza ma non era una cifra superiore a quanto ho pagato è logico che mi viene a dire lo cedo se mi danno almeno 70 milioni poi magari la cifra è anche più bassa se saliva necessità di vendere anche perché la juve non vende oltre c'è più giù dei 50 non vende altrimenti rischia di andare in minus tranquilla ma secondo me sotto lo so io non sono d'accordo con il secondo me sotto i 60 milioni non puoi vendere braovic anche se a oggi pronta che la juve alla juve no io ho detto che non può vendere ho detto secondo me vale questa questa cifra poi è ovvio che la juve non lo vende sotto i 60 sulla stagione sono d'accordo con tescial nel senso la giudizio negativo per la resa di vlavic e per le aspettative iniziali però la juve è generato abbiamo fatto una fatica a fare gol e questa non è colpa di vlavic è colpa del contesto è colpa del della juve che non ha esaltato i giocatori migliori che ha perché poi anche del ict è andato avvento il premio mvp quest'anno al bagliere di monaco ed mvp in italia che nome aveva pallavolista uno che fa disastri uno che fa l'errore mvp al bagliere di monaco quindi vlavic è forte ma la juve non rende chi è messo perché non renderebbe nessun altro secondo me stavo pensando vedendo sia la juve che il napoli chi è messo peggio perché anche il napoli sembra che parta parte kim osimen forse va via spalletti è più che altro è quella la domanda il dubbio che arriva in panchina e chi sostituisce giuntoli come direttore sportivo sono un po quelli dubbio giova ma voi avete un po la sensazione tipo quando c'è di essere stati scopati e poi lasciati lì abbandonati sedotti abbandonati no 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 anche perché se guardi un po la storia la carriera di spalletti fondamentalmente ce l'ha un po per indole questa cosa no prima di allenare il napoli comunque è stato un po fermo poi è venuto qua ha vinto fondamentalmente mi trovo anche con quello che vuole fare lui nel senso ho vinto lascio da vincitore così mi acclameranno per diversi anni all'allegre no no prima di più a prima guarda ti dico che con chiunque parlo comunque nessuno parla male di spalletti capito cioè non puoi parlare c'è proprio non ti puoi permettere di parlare male di uno che davanti a vincere lo stretto dopo 30 anni poi per la persona che è stata per quello che ci ha dato veramente nessuno si permette ok ma non stavo parlando di spalletti cioè dicevo vi sentite un pochino però quindi che non sono io no io personalmente io lo credete nel presidente guarda dopo quest'anno è difficile dire dopo quest'anno sì bisogna crederci bisogna crederci ma io io credo che il colpo con l'allenatore lo fa fatti il colpo con l'allenatore chi vorresti sciare tu si è fatto i tanti nomi e si sono fatti tantissimi nomi e io vorrei galtier il nome che faccio io e luise enrique anche se quello di galtier non mi dispiace però gli stranieri a napoli non hanno mai fatto bene in pace mi ricordo gli ultimi almeno che ci sono stati benitez neanche troppo esatto benitez è stato preso per vincere con la squadra forse quello secondo me la napoli più forte che c'era c'era una squadra madonna e non l'ha fatto però no non era la squadra ma il fatto che benitez quando benitez è arrivato a napoli a arrivato reina è arrivato iguain è arrivato con arrivato raul albiol è cambiata quella concezione ma dicono che galtier non sa giocare non fa giocare la squadra calcio in chat ma io più che altro ho visto ha vinto il campionato con lille prima del paris saint germain poi è un bellissimo rapporto con osimeno quindi sta cosa mi piace tanto e kk all'inter come la prendereste male io male sinceramente c'è alla juve sarebbe bruttissimo personalmente però all'inter che fa scusa perché ride così deve stare guarda 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 il commento di fort 96 mi ha steso è un allegri senza bidet dice ma perché veramente tanto lo conosci come allenatore un po così a me non mi incanta particolarmente devo essere sincero preferivo molto di più un paolo susa che sono me molto sottovalutato come allenatore e ma lì da quando ho capito c'è quella roba della penale da pagare alla salernità è un milione l'ingaggio di galtier secondo me sarà di ben differente da da susa c'è anche neges man hanno fatto come nome ma quello non va al psg dicono che lo stavamo facendo come no ma invece la juve ragazzi a livello di nomi rimane sempre di non a pancio se c'è allegri c'è allegri se non togli allegri c'è allegri quindi c'è anche è una matriosca praticamente se ne sono tanti dentro poi mettiamo due di tre di allenatori ma ma però luca com'è possibile che non leggano internet quelli della juve scusa non hanno non credo che sia quello cioè c'è c'è un tifoso della juve che lo vuole ancora una minoranza però se el can dice 40 milioni per lasciar fermo due anni un allenatore non li metto cosa fai io non ce li ho da dargli da prestargli io sì però il punto è un altro non è sempre allegri che mi preoccupa mentre se il direttore sportivo innanzitutto perché quello che dovrebbe poi tracciare la strada da qui a qualche anno invece mi pare che anche il mercato di quest'anno qua di questa stagione che sta per arrivare io ve lo stia facendo un po come faccio io i torni di calcetto che organizzo la squadra chiamo quello contratto annuale arabio quadrado forse rimane forse non rimane c'è mi pare che dal racconto almeno che che stanno facendo i giornalisti mi pare che ci sia tanta improvvisazione poca lungimiranza ed è la cosa che mi preoccupa di più ed è per questo che aspetto che arrivi un direttore sportivo che sia in grado di tracciare la strada perché dici 40 milioni ti chiedono luca è per le zone con lo ringrazio tra ingaggio netto lordo con lo staff un biennale sono circa 40 milioni di euro minchia eh no mi sa che mi sa che aver fatto un altro giro sulla giostra nel contatto fino al 2026 allegri altri due anni ma chi è che ha fatto firma chi è che ha avuto sto colpo qua per capire agnelli a serie del pancio si è contento no no a rido perché avevo sentito ucciso adl no a me mi dispiace vi dico la verità per la juve perché secondo me c'è lì non per il content caro pancio allora ti dico la verità secondo me potrebbe tornare veramente c'è max quest'anno potrebbe fare bene che peggio di così non può fare quindi secondo me dipende però più che altro per la retrocessione dipende più che altro chi prende la juve perché mentre cioè prima facevamo dei nomi su milan inter anche napoli ho letto dei nomi e comunque sai avendo vinto il campionato i giocatori hanno un'altra valutazione cioè la juve rischia veramente di vendere i suoi prezzi pregiati a poco e di fare un mercato che in entrati io non ho sentito nessun nome ancora c'è quel giorgiano che sta uscendo in questo momento varaschelia è tipo varaschelia però non è varaschelia è quello del mezzo che ha giocato in leghi ciughe ha fatto 24 gol 8 assist che non mi ricordo ragazzi neanche come si chiama ma non si sa chi sarà il direttore cioè giuntoli niente è giuntoli dovrebbe essere giuntoli il direttore dovrebbe essere giuntoli però dovrebbe liberarsi però per liberarsi giustamente dell'aurentis si sistema prima le cose in casa e poi mette l'immondizia fuori oggi è manna oggi è manna sì ma l'ha mai fatto manna il direttore sportivo sì nella next gen però sì cioè non da prima squadra cioè ha fatto quello femminile no next gen è l'under ah non lo sapevano lo sapevano 23 no hanno fatto anche bene io posso sapere tutto queste robe qua lo farei di lavoro quindi è forte diciamo sui bambini sì molto forte nella scelta dei bambini perché ci associamo cioè ci citiamo eh quelli più piccolini quelli più piccolini è un direttore sportivo non è un sacerdote quindi sembra una cosa brutta non è ma allora non facciamo battute sulla chiesa come se dovesse arrivare è giunto di tanta roba cioè nel senso negli ultimi 8 anni comunque ne ha portati di colpi al navoli cioè pure quest'anno poi lascia stare che non abbiamo vinto tanta roba negli ultimi 8 anni però no ma sai sai cosa a me a me dispiace l'altro giorno ragionavo un po' sui due mercati che ha fatto la Juve dalla Ligribis ci sono stati 12 calciatori che sono stati acquistati e probabilmente li confermati per la prossima stagione ce ne saranno sei cioè a me piacerebbe che una figura che arriva e ti dice va bene facciamo questi acquisti facciamo queste sessioni e il progetto è questo per i prossimi tre anni non che ogni sessione di calcio mercato cioè Zaccaria lo compri a gennaio lo vendi a giugno ragazzi cioè una follia sono cose che non esistono Vlaovic 80 milioni un anno e mezzo fa quest'anno forse lo cedi c'è sono robe che stanno in cielo l'interno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti